Più attenzione alla qualità del cibo attraverso acquisto di prodotti a chilometro zero, più attenzione alle combinazioni degli alimenti e delle pietanze, frutte vegetali tutti i giorni, pane integrale, aumento del consumo dei legumi, carni e pesce due volte alla settimana. Questo in sintesi il nuovo menù delle menze scolastiche di Chieti che entrerà in vigore a partire dalla metà di novembre, realizzato in collaborazione con le associazioni dei genitori, l'università e il reparto di pediatria dell'ospedale di Chieti e le istituzioni scolastiche cittadine. Adesso chiediamo anche che i genitori ci aiutino a far sì che i loro figli possano gradire mangiandolo un po' di più quel tipo di prodotto che magari a casa non viene spesso utilizzato ma che ci dicono gli esperti nutrizionisti è necessario entri nel menù di ogni giorno dei bambini perché poi possano evitarsi i problemi di carattere fisico che negli anni invece vanno crescendo. Il nuovo menù segue l'affidamento alla Ladisa del servizio Mensa, un appalto da 7 milioni di euro per 4 anni prorogabili a 5, soldi che per una parte minoritaria sono compensati dal pagamento del servizio da parte delle famiglie. Il Comune per combattere la forte evasione in questo settore sta studiando la revisione delle tariffe che entrerà in vigore però dal prossimo anno scolastico. Di certo al momento c'è solo che ci saranno due fasce di esenzione e qualche aumento spalmato su fasce di reddito più numerose per consentire una maggiore equità. Sempre sul fronte scuole sono appena terminati i controlli sulla staticità degli edifici a seguito della scossa sismica di mercoledì sera. Il sindaco rassicura sui risultati della relazione tecnica. Non è emerso nulla di preoccupante sotto il profilo della staticità degli immobili. Questo mi dice la relazione rimessa dall'ingegnere Intorbida che insieme ai tecnici del Comune ha visitato tutti i plessi scolastici della nostra città e anche gli edifici che occupa il Comune. Non c'è preoccupazione per le strutture in questo momento perché è per nostra fortuna molte strutture hanno anche però già avuto interventi sia di adeguamento sismo che di miglioramento sismico.